Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo nuovo video sono MasterSys06 E oggi farò 15 rovesciate Con questa palla che è leggerissima Vente vi lascio E buona visione Bella Lo vedete? Questo pallone Bella dai Sembrano pervironati 2, aspettate Ragazzi Lasciate Mi piace 3, aspettate Stop Come la testa Perché adesso voglio un po' da qua E' bella lei Ovviamente Siamo nel giardino Dove c'è casa mia Da un condominio Siamo alla quinta No, guarda Vabbè quinta Sì, sì, sì Due di qua Due di qua Due piante in pieno Questa non si vede qua Sì, sì, sì Sì, sì, sì è l'amazon eeeh c'è sto settimo non me l'ho detto qua dai siamo all'ottava non 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 however allora n